Musica Leggiamo in queste ultime ore il comunicato della CGL sulla chiusura delle scuole, nel quale si accusa il governatore Bardi di attendismo sulla scelta da compiere. Accusarlo di incertezza è assolutamente irragionevole e immotivato. E' quanto dichiarano i consiglieri di Forza Italia, Piro, Bellettieri e Acito, i quali ricordano che si sono succeduti in questi ultimi giorni incontri e interlocuzioni tenuti al tavolo del Presidente con gli attori protagonisti del mondo della scuola e non solo, è ancora con Anci e con tecnici della Task Force che hanno fornito dati sempre puntuali. E' più che comprensibile che tutti abbiano espresso a margine delle riunioni con Bardi le proprie legittime opinioni su una scelta di chiusura che sappiamo essere vitale e dirimente per tutta la gestione dell'emergenza Covid. Comprendiamo quindi le sollecitazioni e le riflessioni che arrivano dai sindacati, concludono, ma solo se nell'alveo dell'onestà e del confronto che il nostro Presidente ha sempre messo al primo posto in tutte le scelte che da mesi ha il coraggio di assumere in prima persona e tempestivamente.